Mezzanotte 25, buonasera, ultima edizione breve del nostro telegiornale. La politica in primo piano, Salvini lancia messaggi al Movimento 5 Stelle, il mio telefono è sempre acceso, ma Di Maio chiude al leader leghista, ha aperto una crisi assurda solo per consenso. E per Salvini c'è anche il duro attacco di Conte sulla Open Arms, ancora una volta inaccettabile e sleale collaborazione, ha detto il Premier. Tra il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini la tensione sale come mai prima, al centro dello scontro il caso dell'Open Arms, il Presidente del Consiglio scrive al Vice Premier leghista, comprendo la tua fedele ossessiva concentrazione nell'affrontare il tema dell'immigrazione, riducendolo alla formula a porti chiusi, si tratta di un chiaro esempio di isreale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare. La risposta del Ministro dell'Interno, sono stato leale e sempre lo sarò nel pieno rispetto di ogni carica istituzionale. Confesso la mia colpa, caro Presidente, la mia ossessione nel contrastare ogni tipo di reato, compresa l'immigrazione clandestina. Nel mirino del Vice Premier leghista anche il Ministro della Difesa, Lisbetta Trenta, che assieme a Toninelli non ha controfirmato lo stop all'Open Arms e ha inviato due navi della Marina Militare per assistere le persone a bordo, soprattutto minori. Ma nel ferragosto politico rovente lancia anche un segnale di distensione verso gli alleati di governo e dice il mio telefonino è sempre acceso. Un ripensamento? È difficile dirlo. Di Maio intanto respinge l'eventuale apertura. Salvini ora è pentito, spiega, ma ormai la frittata è fatta, ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna, giorni fa aveva tuonato, siamo pronti a dimetterci tutti, vedrete, ma sono passati cinque giorni, dice Di Maio, e stanno ancora tutti lì attaccati alla poltrona. E nove persone sono state evacuate per motivi sanitari questa sera da Open Arms, la nave dell'ONG spagnola ferma in mare da oltre due settimane senza permesso di sbarco. La loro situazione era stata definita critica, i migranti sono stati trasferiti al poliambulatorio. Sulla Open Arms restano quindi al momento 139 persone che per scendere a terra attendono ora l'autorizzazione allo sbarco da parte del biminale oppure il sequestro dell'imbarcazione da parte della procura di Agrigento che potrebbe aprire un'inchiesta ordinando di conseguenza a tutti i migranti la discesa a terra. E adesso una notizia appena arrivata in redazione, una tragedia del Messinese, due persone, zio e nipote di 60 e 30 anni sono stati uccisi a Ucria questa sera a colpi di fucile dopo una lite nata nel parcheggio con un'altra persona. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono già sulle tracce dell'omicida. Subito dopo la sparatoria è scoppiata una violentissima rissa tra persone vicino alle due vittime. Ed ora a Hong Kong dove da giugno scorso non si fermano le proteste, l'ambasciatore cinese a Londra ha detto che la Cina non starà a guardare ed è pronta a reprimere i disordini rapidamente se la crisi diventa incontrollabile. Sulla questione è intervenuto anche Donald Trump, se il presidente Xi incontrasse personalmente i manifestanti ha auspicato, ci sarebbe una conclusione lieta e illuminata al problema di Hong Kong. E un monito è arrivato anche dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. La Cina ha detto stia molto attenta a non fare di Hong Kong una nuova Tiananmen. Da giorni gli Stati Uniti hanno espresso forte preoccupazione per la concentrazione di militari cinesi al confine con l'ex colonia britannica. La morte di Jeffrey Epstein avvenuta nel carcere federale di Manhattan, dove era rinchiuso dal luglio scorso con l'accusa di traffico sessuale su ragazze minorenni. Il finanziere morto per impiccagione, che aveva già tentato di togliersi la vita, aveva fratture multiple delle ossa del collo. A rivelarlo l'autopsia al suo corpo, secondo quanto emerso dal risultato autoptico, infatti risulterebbe la frattura dell'osso ioide che si trova alla radice della lingua, vicino al pomo d'Adamo. Questo tipo di frattura si verifica quando una persona si impicca o viene strangolata. Il risultato dunque non chiarisce in maniera evidente se il finanziere sia davvero morto suicida o sia stato invece ucciso. Sul decesso di Epstein sono in corso tre indagini. Ed era l'ultima notizia, vi lascio al film, l'informazione torna domattina alle 7.30. Buon proseguimento.